Il fatto che la voluntary disclosure fosse un pezzo di questo percorso, credo che abbia sempre trovato tutti d'accordo. L'importante era trovare una mediazione, un giusto compromesso, secondo me, su una necessità ovvia, sacrosante, giusta naturalmente anche per quello che riguarda il rientro dei capitali, nello stesso tempo tenendo anche conto che ci deve essere una gradualità della pena rispetto all'effettivo danno che dal reato non ne consegue.